Storia di Iqbal, capitolo 6 Era una mattina speciale. Quando arrivavano i clienti stranieri, Hussain non poteva trattarci troppo male davanti a loro e doveva far credere che eravamo felici e contenti. «Questi sono i miei allievi», diceva distribuendo carezze a destra e a manca. «Qua da me imparano un lavoro onesto che permetterà loro di assicurarsi un futuro migliore, senza fame e miseria. In effetti, per me, sono come dei figli». Non so se gli stranieri gli credevano o no. Gli stranieri sono gente strana. In genere erano uomini elegantemente vestiti e con gli occhi freddi. Ma ogni tanto veniva anche qualche donna, qualche signora, con le gambe e le braccia scoperte e i capelli profumati, che ci guardava sorridendo e diceva «Che bei bambini!». Non lo so se eravamo così belli. Quella mattina, comunque, avevamo ricevuto una colazione più abbondante del solito e già questo ci metteva di buon umore e potevamo ridere e chiacchierare mentre stavamo in fila in attesa di superare la tenda lercia del gabinetto, «La porta del paradiso!». L'aveva soprannominata qualche miscredente. Le teste di legno avevano già fatto i loro comodi e per quel giorno, in omaggio agli stranieri, non sarebbero neanche stati incatenati e noi aspettavamo il nostro turno dandoci gli spintoni. «Buoni bambini, buoni!», gridava la padrona, ma non suonava come una minaccia, a differenza del solito. Anche Usain, che in genere compariva a metà mattina aggiustandosi i pantaloni con la faccia gonfia di sonno, era già sveglio e agitato e sudava e parlava in continuazione. Karim era terrorizzato all'idea che qualcosa potesse andare storto e che Usain se la prendesse con lui. I tappeti, che avevamo tessuto fino ad allora, erano pronti nel magazzino e quelli a cui stavamo lavorando facevano bella mostra di sé sui telai. Insomma, c'era quasi aria di festa. In attesa del mio turno, con la piccola Maria appiccicata alla gonna, mentre cercavo di difendermi dalle gomitate di Ali e dai pizzicotti di Salman, mi sentivo una strana sensazione dentro, come un vento nel petto. Ero sicura che quella mattina avrei spiccato un salto altissimo come volare e sarei riuscita per la prima volta ad afferrare il bordo della finestrella sopra il gabinetto alla Turca. Certo, nessuno immaginava quello che sarebbe successo. Iqbal non era in fila con noi, se ne stava accanto al suo telaio, ma nessuno ci faceva caso. L'ho detto, in quei giorni tutti tendevano a evitarlo perché erano invidiosi e anche lui stava molto per conto suo, come se avesse gravi pensieri. Tra l'altro, il padrone gli aveva tolto la catena già da un po' e anche questo era stato interpretato come un segno di particolare favore. Non andai al gabinetto quella mattina e non raggiunsi la mia finestrella da cui si vedeva il ramo del mandorlo. È strano, come certi particolari si ricordino anche a distanza di anni, lucidi e precisi, come se fossero avvenimenti successi ieri e non tanto tempo fa. Ho quella scena qui, davanti agli occhi e ancora mi batte il cuore. Ricordo Hussain che andava su e giù lungo la nostra fila, eccitato e nervoso. Ricordo come si fermò di colpo, come smise di agitare le mani e sbiancò in volto. Guardava qualcosa alle nostre spalle. Ricordo i suoi occhi dilatati e la sua bocca con i denti anneriti dal tabacco che si apriva lentamente. Ci girammo tutti assieme, come se una grande mano ci avesse afferrato e costretto a ruotare la testa. Non dimenticherò mai più la scena. Iqbal era in piedi accanto al suo posto di lavoro. Dietro di lui c'era il tappeto, quel meraviglioso tappeto di un azzurro che non si era mai visto, con un complicato disegno floreale ed era perfetto. Iqbal ne aveva completato quasi un terzo. Aveva lavorato meglio e più velocemente di quanto avrebbe saputo fare chiunque altro. Gli stranieri sarebbero impazziti per un tappeto così. Iqbal era pallido anche lui, ma meno di Usain Khan. Prese il coltello che usavamo per tagliare le filacce dei nodi, lo alzò sopra la testa, ci guardò tutti uno per uno, si girò con calma e tagliò il tappeto dall'alto in basso proprio a metà. No, pensai, non farlo. sentimmo distintamente nel silenzio che era calato nel laboratorio lo strap dei fili recisi. Usain Khan urlò come un maiale ferito. La padrona urlò. Karim urlò perché lui faceva tutto quello che facevano i padroni. li vedemmo correre attraverso il laboratorio, sollevando una nube di polvere e di stoppa, intralciandosi a vicenda, inciampando, imprecando e bestemmiando come dei veri credenti non dovrebbero mai fare. Ma correvano piano come succede nei sogni che corri, corri e non arrivi mai. Prima che potessero afferrarlo e disarmarlo, Iqbal aveva usato altre due volte il coltello e adesso il tappeto più bello del mondo era un ammasso di lana sporca sulla terra rossa del pavimento. Poi, altrettanto all'improvviso, calò il silenzio e sembrava che non dovesse finire più. Noi, per istinto, ci eravamo ammassati in un angolo del laboratorio come per proteggerci meglio. Usain Khan era in piedi davanti a Iqbal e lo dominava con la sua mole. Era rosso in viso e le vene del collo erano gonfie come se stessero per scoppiare. Stringeva in mano il coltello che aveva tolto a Iqbal e per un terribile momento pensammo tutti lo ammazza. La padrona si inghiozzava, raccoglieva i pezzi del tappeto e li ripuliva dalla polvere rossa come se fosse stato possibile per un miracolo rimetterli insieme. Karim si prese la testa fra le mani, disperato, neanche fosse stata roba sua. «Maledetto!» «Maledetto!» Sibilò Usain. «Maledetto!» «Me l'avevano detto che eri un ribelle, un traditore!» «Me l'avevano detto!» «Usain, non ti fidare! È una vipera, un serpente velenoso, un ingrato!» e io sciocco e cieco che pensavo «Me la pagherai!» «Oh, se me la pagherai!» «Nella tomba!» ululò la padrona. «Gettalo nella tomba e non farlo uscire più!» Lo afferrarono per le braccia e lo trascinarono in cortile. Noi li seguimmo come una nidiata di pulcini impauriti. Ci fermamo sulla porta. Vedemmo Iqbal sbucciarsi le ginocchia sui sassi del selciato, picchiare un braccio contro l'orlo del pozzo. Il padrone si fermò davanti alla porta di ferro arrugginito, nascostala in fondo. La fece ruotare a fatica sui cardini corrosi. Lo vedemmo scomparire giù per le scale, nel buio, strattonando Iqbal e poi sentimmo il rumore, quel rumore tremendo e pauroso che popolava ai nostri incubi di notte, il coperchio della tomba che veniva sollevato e poi sbam, lasciato cadere e il suono rimbombò ancora a lungo nell'afa pesante del cortile. Non si respirava, non c'era vento, anche la polvere non si muoveva. Solo i tafani continuavano a martoriarci le gambe, ma nessuno aveva voglia di scacciarli. Usain Khan risalì da sottoterra, lento, pesante, sentimmo i suoi passi sugli scalini uno per uno. Quando emerse al sole, strizzò gli occhi, richiuse la porta di ferro con una sola zampata e avanzò verso di noi che ancora stavamo a barbicate all'entrata del laboratorio. «A lavoro!» ringhiò. «Tornammo ai nostri telai, riprendemmo a lavorare, tutti insieme, lo stesso movimento, lo stesso rumore. Tunf! 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 Usain stava alle nostre spalle in silenzio. Sentivamo i suoi occhi bucarci la schiena. Non era più un giorno di festa. Tunf! Tunf! Ali, che lavorava alla mia destra, riuscì per una frazione di secondo a voltarsi verso di me. Con il movimento delle labbra formulò una domanda silenziosa. «Perché l'ha fatto?» Feci velocemente segno «Non lo so». Mentre veniva trascinato sulle pietre del cortile, un attimo prima di scomparire giù per la strada che portava alla tomba, Iqbal aveva ruotato la testa all'indietro e mi aveva guardata. Guardava proprio me, sono sicura. Mi aveva guardata a lungo fino a quando non l'aveva inghiottito l'oscurità. Voleva dirmi qualcosa. Forse voleva dirmi perché l'aveva fatto, perché aveva sfidato il padrone in quel modo folle. Io non ero sicura di aver capito, ma una cosa l'avevo vista chiaramente. Iqbal aveva paura come tutti noi in quel momento, ma l'aveva fatto ugualmente.